Il futuro abita qui, con questo slogan la vostra coalizione aveva presentato il programma elettorale nel caso in cui il centrosinistra dovesse vincere le prossime elezioni, quali saranno le priorità? Le priorità ovviamente ce ne sono diverse, tante cose sono state fatte nei dieci anni di governo e quando il centrosinistra vinse le elezioni con Massimo Seri nel 2014 la città era completamente ferma e completamente isolata. Fano è cresciuta in questi anni, tante sono le opere che sono state realizzate e che sono sotto gli occhi di tutti oggi le diamo per scontate ma alcune opere fanno la differenza, mi riferisco per esempio alla sistemazione del foro Boario ai lavori fatti di abbellimento di piazza Marcolini, i lavori che ci sono in piazza Andrea Costa i lavori sul waterfront che sono in corso sia a Torrette che a Fano, le piste ciclabili, l'ex area Agip sono tante opere che sono state realizzate, quindi Fano ha cambiato, ha cambiato volto, il Pincio per esempio che è un gioiello che tanti ci invidiano e che è stato sicuramente ristrutturato da parte di questa amministrazione. Ci candidiamo a continuare questo percorso, questo lavoro, le cose che mi vengono in mente da subito sono il miglioramento della viabilità verso nord e verso sud perché il problema non è soltanto da una parte quindi c'è bisogno sicuramente di togliere il traffico dai viali che sono a ridosso del centro storico abbiamo bisogno di esternalizzare il traffico, portarlo più fuori, più lontano e renderlo sicuramente più scorrevole realizzare le piste ciclabili, le piste ciclabili sono sicuramente un'esigenza della nostra città tante ne sono state fatte ma c'è ancora tanto lavoro da fare. La realizzazione del casellino, il casello monodirezionale affenile che sicuramente potrebbe dare una risposta concreta alla nostra città dal punto di vista della viabilità il miglioramento dei servizi, la realizzazione di tre agili nido di cui sono partiti i lavori ci sono i lavori in corso che daranno una risposta alle mamme, alle famiglie e ai bambini naturalmente che potranno essere ospitati perché sono un'esigenza per le famiglie soprattutto per le mamme che lavorano ecco sono esigente a cui dobbiamo dare delle risposte compreso ovviamente il potenziamento dei servizi alla persona perché noi dobbiamo tener conto che siamo una coalizione di centro-sinistra che tiene in considerazione in particolare i più deboli, le fasce più deboli, le persone che hanno di meno ecco a queste persone noi dobbiamo dedicare tutto il nostro lavoro e tutto il nostro impegno un'opera simbolica se vuoi che mi viene in mente in questo momento è sicuramente il palazzetto dello sport dopo aver realizzato in questi cinque anni la tanto attesa da parte della fondazione ma in collaborazione con il comune ma anche per il lavoro fatto in passato dalla regione che aveva messo a disposizione dei posti letto di sociosanitari per la Don Tonucci è stata realizzata la nuova piscina, è un'opera stupenda la nuova piscina adesso è un patrimonio della comunità, sicuramente c'è bisogno di realizzare un nuovo palazzetto dello sport per lo sport, per le squadre che vincono e che quindi salgono di categoria come la Virtus ma anche per gli eventi, anche per eventi culturali, anche per eventi teatrali ed anche per la congressistica ecco un nuovo palazzetto dello sport dovrà avere anche questa funzione ospitare eventi piccoli, medi e grandi che possano portare gente a Fano anche perché Fano è cresciuta turisticamente in questi anni deve continuare a crescere insieme agli investimenti sulla cultura perché la cultura fa crescere complessivamente tutta la comunità E poi la caserma Paolini? La caserma Paolini è stata ormai acquisita al patrimonio del comune di Fano il centrodestra voleva spendere 21 milioni 15 anni fa quindi indebitando pesantemente il comune, rischiando di mandarlo in default per prendere la caserma Paolini il centrosinistra, questa giunta, questa amministrazione che ha governato Fano è riuscita ad avere intanto una parte della caserma Paolini gratuitamente ecco la caserma Paolini dovrà essere il luogo su cui investire i prossimi anni non solo per ristrutturarla ma per portarci i servizi e per farla diventare il cuore pulsante della città e del centro storico naturalmente questo sarà possibile come? Grazie al centrosinistra che vuole continuare a fare questo lavoro e grazie al lavoro che potrà fare Cristian Fanesi come oggi candidato sindaco ma da domani come sindaco della città perché sono sicuro che Cristian potrà fare un ottimo lavoro Mancano pochi giorni alle elezioni state organizzando un grande evento di chiusura della campagna elettorale Sì, venerdì pomeriggio, venerdì 7 alle 18.30 stiamo organizzando una iniziativa di conclusione della campagna elettorale anche per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato tutti i volontari che si sono impegnati è un momento diciamo finale di chiusura della campagna elettorale sarà nostra ospite Simona Bonafè l'onorevole Simona Bonafè la serata sarà anche aglietata da un gruppo musicale il gruppo di Luca Vagnini e i target band sarà un momento di condivisione tutti sono invitati a partecipare e naturalmente ci sarà la chiusura della campagna elettorale da parte di tutte le forze politiche del centro-sinistra e in particolare del nostro candidato sindaco che è Cristian Fanesi grazie a tutti